allora fino ad ora abbiamo fatto ora abbiamo fatto dove vi metto la mano a sto io per il pezzo per il braccio e dentro per il caldo a dentro ok? va bene ora facciamo questo lavoro ora facciamo questo lavoro qua dietro vingolo e sopra ok entro bisogna essere due entro e non volendo faccio il giro però per due minuti stavo e non volendo non volendo e poi non volendo non volendo non volendo quelle altre vieni ok sul dono sono non volendo giro vai giro 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 questi e vi faccio i kilogram Ecco, da un posto, fate un'altra macchina, a volte se scurlo, se cibo gli uno, vieni, double leg, si chiedono i gambe, non lo proietto, ma faccio il giro, vai, più calore, solo, a 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